Rai Isoradio, cartoline dall'Italia. Il monolite sacro Moai, statua che sancisce il gemellaggio con l'isola di Pasqua. La leggenda narra che Vitorchiano, confinante con Viterbo, fece ricorso a Roma per mantenersi libera. Nel 1233 Roma fu aiutata da Vitorchiano a sconfiggere i viterbesi e la gratificò del titolo di Fedele di Roma. Le consentì di aggiungere al proprio stemma la sigla SPQR e anche i colori di Roma. A Vitorchiano si mangia molto bene via la Sagra del Cavatello e la popolazione è molto cortese che vi aspetta a braccia aperte. Manda una cartolina anche tu. 348 103 10 10. Il tuo posto del cuore in un vocale.